ciao a tutti intanto veramente veramente un grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno seguito nel intervento la settimana scorsa in Parlamento, ai tantissimi commenti che ho ricevuto e anche suggerimenti. Oggi all'inizio di questa settimana mi corre l'obbligo di dare un primo giudizio, lo approfondiremo, un giudizio sulla fase 2 annunciata finalmente ieri sera in diretta televisiva dal Presidente del Consiglio. Doveva essere la fase 2, secondo me il primo giudizio è questo, molto diretto è molto semplice, se c'è una fase 2 questa fase 2 deve basarsi su una unica condizione, fidarci dei cittadini, giocare, scommettere sulla responsabilità, sulla serietà e sulla libertà dei nostri cittadini. Vogliamo ripartire, la fase 1 è stata condizionata da 47 giorni di quarantena, abbiamo tolto la libertà ai nostri concittadini, alle nostre imprese, ai ristoranti, alle famiglie. Questa libertà ci è servita a convivere, a capire, a fermare il contagio con il coronavirus. Bene, adesso che abbiamo individuato la strada non possiamo morire di fame, di sete, non possiamo morire di distanziamento sociale, riprendiamo e ripartiamo tutti insieme con la coscienza di essere un grande popolo che è responsabile. Io scommetto sulla tua capacità, cittadino, sulla tua libertà, sulla tua responsabilità. Ecco, non mi è sembrata che questa sia la fase 2. Conte, il Presidente del Consiglio, ancora una volta ha ribadito nel suo intervento, quasi da messa laica, da prete laico, lui sì può fare le prediche, altri non le possono fare, che l'unica certezza della bontà e della capacità del vincere questa sfida ce l'ha lo Stato che controlla. Noi permettiamo, noi disponiamo. Anche questi verbi è dal tempo del Medioevo che non si rivedevano. È ovvio che non è liberi tutti, ma è altrettanto ovvio che se c'è una fase 2, questa fase 2 deve basarsi su questa scommessa positiva, sulla scommessa positiva della riapertura delle imprese. Non esiste filiera, esiste solo un criterio. Abbiamo imparato che occorre il distanziamento sociale, sappiamo che c'è bisogno di dispositivi di protezione e di sicurezza, sappiamo quali sono le regole che fino ad oggi sono conosciute da ottemperare per essere sicuri. Bene, le mettiamo in pratica e chiunque è capace di rispettare e di garantire queste regole apre. Altro che filiera, tutti devono aprire, dai ristoranti alle imprese, dai musei alle scuole, alle scuole, perché noi dobbiamo scommettere sulla responsabilità e sulla positività dei cittadini. Altrimenti siamo al paradosso che abbiamo ascoltato ieri. Vi faccio alcuni esempi, perché siamo magari su scherzi a parte. Ai funerali adesso è permesso partecipare. Nella fase 2 si può andare ai funerali. Pensate che cosa ci ha concesso il principe Conte, di poter accompagnare i nostri cari anche nel suo ultimo momento, che drammaticamente non è stato possibile nella prima fase. Però bisogna essere massimo in 15. Perché 15? Perché non 10? Perché non 100? C'è un criterio, il distanziamento sociale? C'è un criterio, la mascherina? Bene, ma se io un funerale lo celebro nel Duomo di Milano, che è una chiesa enorme, qual è la ragione per cui non ce ne possono essere 100 di persone che accompagnano quel funerale? Chi l'ha stabilito 15? Quale scienziato? Quale dei 400 consulenti è riuscito a dare questo criterio? Ma ci vogliamo fidare? Di chi mi fido? Il tema è sempre il solito. Io non mi voglio assumere la responsabilità. La politica non si vuole assumere la responsabilità. Presidente Conti, in pari dal presidente Macron in Francia, gli scienziati gli hanno dato dei suggerimenti. Il rapporto del sabato 25 aprile sul sito del Ministero del Consiglio Scientifico gli ha detto, composto da 14 membri, dice a Macron guardate che allo stato attuale riaprire le scuole è un rischio, nel senso che non siamo in grado di distanziare i bambini eccetera. Macron prende questo parere e dice ci sono delle ragioni politiche per cui la Francia, fra 14 e dopo l'11 maggio, riaprirà le scuole, perché l'educazione, l'istruzione e la formazione sono fondamentali per la ripresa. Mi assumo il rischio e la responsabilità di riaprire, creerò le condizioni perché le indicazioni degli scienziati che mi sono state date possono essere ottemperate, ma è più importante, dice Macron, superare le differenze tra chi vive in case connesse e dotate di computer, con genitori in grado di aiutare figli e insegnanti nei compiti online e chi invece non ha gli strumenti tecnologici e culturali per aiutare i propri figli. Riaprire le scuole permette a molti di riprendere a lavorare e il ritorno in classe è considerato dal governo lo snodo principale della ripartenza. Ma questo è un signore politico, questo è il Presidente del Consiglio che si assume la responsabilità sentendo gli scienziati di dare un'indicazione alla gente e si affida, si fida sulle questioni più importanti. Ma un altro esempio, ma qual è la ragione per cui riapriamo tutto e non possono riaprire le funzioni religiose? Lasciate perdere che io sono cattolico e per il cattolico andare a messa è una cosa fondamentale. La libertà religiosa è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, appartiene al diritto sovrano e intimo della persona. Le libertà sono garantite dalla nostra Costituzione, le abbiamo bloccate per 47 giorni, i vescovi e i cattolici sono stati responsabili ad accettare, ma nel momento in cui si parte la fase 2 si riparte, si riparte Conte, perché si deve ripartire, perché i preti, i cattolici, le chiese sono responsabili come tutti gli altri e faranno attuare ovviamente il distanziamento sociale e tutto quello che voi ci chiedete. Ma per quale ragione le funzioni religiose no? Le funzioni del 25 aprile sì, quelle religiose no. Ma che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Impari dal Presidente della Camera dei Deputati della Germania, Schöbel, che ha detto che non si può morire di malattia, ma ancora di più è la morte della dignità umana, della persona. La persona non la si può uccidere e quindi dare le libertà sono la cosa più importante. Non è un caso che la Germania, il Belgio, la Francia, la Norvegia, la Svizzera, la Repubblica Ceca hanno riaperto e riapriranno le scuole. Stanno riaprendo, alcuni non hanno mai chiuso le fabbriche, stanno riaprendo i ristoranti, stanno riaprendo i bar. Il 2 giugno chi riaprirà? E anche qui il distanziamento sociale. Mettiamo i plexiglass? Cosa controlliamo tutto e tutti? C'è un rischio. Signor Presidente del Consiglio, glielo diremo questa settimana in aula, quando lei verrà alla Camera dei Deputati, c'è un rischio. Si chiama rischio della libertà. Ma toglieteci tutto, ma non toglieteci la libertà. Mandateci in giro nudi, ma non toglieteci la libertà. Questa è la sfida che noi abbiamo. Con serietà, chiamando alla responsabilità le persone, esercitando anche la funzione di controllo, puoi andare a trovare i congiunti. Però, attenzione, in casa tua devi metterti le mascherine e non devi fare i party. Dica Presidente del Consiglio, chi controlla che in casa mia non faccio un party o tengo le mascherine? Cosa fa? Mi manda il drone sul balcone per vedere se a casa mia ho ricevuto i miei tre figli e ho rispettato le misure. Capisce che è affidato alla responsabilità di ogni singolo, alla fiducia che io ho nei cittadini. Siamo un grande popolo. Si fida di questo grande popolo? E allora, dopo la fase 1, si passa alla fase 2. Si passa al riapertura, al riprendere. Questi sono i primi giudizi. Scusate anche la concitazione. Ma al fondo c'è una questione sempre di fondo. Però, attenzione, quella culturale. Io credo che il cittadino sia il protagonista di una società su cui noi possiamo scommettere per ricostruire e che lo Stato interviene, che aiuta nell'indirizzare, nel dare i criteri, nell'esercitare i controlli, ma nell'accompagnare. In queste abbiamo già avuto grande senso di responsabilità da parte di tutte le famiglie che sono rimaste chiuse in casa per 47 giorni. Evitiamo di peggiorare la situazione. Ripartiamo insieme, insieme. Nonostante le critiche, ripartiamo insieme. Gode oggi il 60%, signor Presidente, del Consiglio del parere e del favore dei cittadini. Bene, lo utilizzi bene, perché a ognuno di noi ha affidato una responsabilità, che è un tesoro che dobbiamo costudire. Cioè, dobbiamo mettersi al servizio della nostra gente, non imporci alla nostra gente. Lasci perdere i consigli degli altri. E un ultimo suggerimento. Gli scienziati fanno gli scienziati. Capiscono, ricercano. Non hanno ancora la verità depositata in tasca. Nessuno di noi sa ancora se chi è stato contagiato, per esempio, e che ha fatto la malattia del coronavirus può riprenderla o no. Quindi gli scienziati non possono che darci indicazioni. Se lei continua a scaricare la responsabilità sugli scienziati che decidono della vita di tutti noi, non andremo da nessuna parte. Porti gli scienziati in Europa. Porti gli scienziati a fare il Presidente del Consiglio. E lei è il Presidente del Consiglio. Quindi decida con attenzione e suggerisca di riaprire le scuole. Lo ha detto anche il Presidente Mattarella. Non è solo il luogo dell'istruzione. La scuola è il luogo della condivisione sociale. È il luogo della socializzazione. Dove andranno i nostri bambini a giocare in questo periodo? Gli oratori, perché non possono essere aperti? Le scuole estive, perché non possono essere aperte? Perché gradualmente anche la scuola, come grande segnale, non può riaprire. Una volta alla settimana, due volte alla settimana. Ma questo è il lavoro da fare tutti insieme. Sono stato sin troppo lungo. Vi chiedo scusa e vi garantisco che ci vedremo durante questa settimana. Ci saranno tante occasioni e tanti interventi. Buon inizio settimana. Grazie a tutti.